Siamo qua con Peppe Santoro, siamo nel post-cara del basket under 19 nel derby di Formia tra Meta Formia Basketball e Fabianne Formia, vinto dal Meta Formia Basketball. Allora Peppe, questa sera è stato vero derby, solo il secondo quarto si è andato sotto, però dopo di che è bastato i pochi minuti per riprendere la retta via della vittoria. Sì, diciamo una pessima prestazione da parte dei nostri ragazzi, sono stati assolutamente sotto tono, forse hanno sottovalutato troppo gli avversari e questo poi non paga mai durante le gare, soprattutto nei derby tra l'altro. Abbiamo visto ad esempio nella gara sia Trimmer che Mosis che sono quelli che diciamo prendono per mano, però complimenti anche a Di Rocco in campo che lui ha cercato pure di dare la mano. Dall'altra parte l'amore che si conosce perché è ex Scauri, però cosa è mancato per poter avere una vittoria con un margine ben più largo? Ma è mancata innanzitutto la concentrazione di giocare una gara ai loro livelli. Abbiamo visto tante partite nella nostra Andre 19 Elite che sono state di buon livello, abbiamo giocato con squadre molto più importanti con le quali tra l'altro i nostri avversari di oggi hanno perso in maniera molto abbondante. Quando entri in campo deconcentrato purtroppo non c'è assolutamente la possibilità di esprimere quel che la sufficienza non paga mai nella pala canestro. La pala canestro deve essere giocato con la massima intensità contro chiunque, a maggior ragione contro avversari che hanno una caratura tecnica inferiore.